Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Nella puntata di ieri dell'eredità, la campionessa Chiara non riesce a trovare la parola che collega le altre 5 e rimane a bocca asciutta. Ci riproverà questa sera e ritroverà i suoi colleghi Vanda e Marco. Proprio quest'ultimo ha subito l'ira dei social quando si è reso protagonista di una brutta gaff nel gioco dei 100 secondi. Sui social, ad ogni fine puntata, gli utenti si ritrovano a commentare quello che hanno appena visto, scambiandosi battute. Numerose sono le critiche rivolte ai concorrenti e ai loro ragionamenti. Chiara è stata fortemente bersagliata e accusata di essere favorita date le facili domande a cui ha dovuto rispondere durante i giochi. A Chiara tutte domande da asilo nido, tuona un utente. Marco è arrivato a sfidare Chiara ai 100 secondi, ma allo scadere del tempo la mano di gioco non era dalla sua parte. Su Twitter gli utenti ci vanno giù pensate affermando che il ragazzo non sapeva nulla. Meno male che ci va Chiara alla ghigliottina. Quell'altro NN ne sapeva nemmeno una, si legge.